Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daggi oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberarci dal male. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Das war Italienisch.